A vent'anni dall'approvazione della legge 6 del 2004, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'amministrazione di sostegno, la città metropolitana di Torino ha organizzato, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, una giornata di studio, con la partecipazione dell'Università di Torino, dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio Notarile, e con il patrocinio della città di Torino e della Regione Piemonte. La legge 6 del 2004 ha la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana, e l'obiettivo dell'incontro era quello di mettere al centro dell'attenzione l'amministrazione di sostegno e il suo funzionamento nel territorio della città metropolitana, per valutare luci e ombre di questa forma di tutela. L'amministrazione di sostegno è un aiuto, consente al soggetto di sentirsi in qualche modo ancora se stesso, con delle limitazioni, senz'altro perché altrimenti non parleremmo di ufficio del giudice tutelare e di necessità di essere in qualche modo aiutati. I contro? Allora il contro è proprio forse la stessa grande apertura normativa, cioè è una normativa non particolarmente dettagliata che in questo qualche contro lo fa riscontrare nella misura in cui occorre delimitare e cucire un vestito specifico sul soggetto da amministrare e questo non è sempre agevolissimo. I numeri di amministrazioni di sostegno sono un trending aumento rispetto al 2012 quando già la legge era entrata in vigore da qualche anno. I dati del 2023 registrano circa 1300 aperture di amministrazione di sostegno a fronte di 300 tutele e quindi procedure per interdizione. Quindi l'istituto, così come in altri tribunali, ha trovato una massima espansione rispetto a quella che è la misura più invasiva e più totalizzante che è l'interdizione.